Anche l'ora, sport, stavolta la sera, che non c'è l'ora. Che, con l'austerità, occupiamo tutta la città. Siamo andati da legge, ma non c'è l'ora. Che caceremmo se arrivassimo al palazzo? Con i banchieri penso che abbiamo poco da dire. Sono quelli che hanno continuato ad accumulare ricchezza sulle nostre spalle in questi anni. Sono coloro che la crisi ce l'hanno fatta pagare. Anche su questo non lo diciamo noi, basta guardare le rilevazioni fatte da economisti, statistici in questi anni. Ci spiegano come la ricchezza non sia diminuita, sia stata semplicemente polarizzata in alcuni piccoli centri di questa Europa. Qualcuno ci dovrebbe spiegare questi 17 governatori delle banche centrali, chi li ha eletti e a nome di chi possono decidere del mio futuro o del futuro lavorativo di tanti giovani, di tanti precari, di tanti disoccupati. Mentre questi signorotti qua appartengono al sistema, sono tutti pagati.